La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione Trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi?